C'è da fare? Niente, c'è da fare, devi dormire. Un po' che bel colore. Vedi un po' tu? Guarda come sta bene bene. Eh, vedi? Rosso e giallo. Non è rosso, è rosa. Non è rosa. Rosa, giallo e nero, vedi? Di che squadra sei tu? Ma io niente. Ah non sei rifosa come me? Di calcio niente? Io niente. Non capisco niente. Non seguo, io sport lo faccio. Di un po', è vero che vado a camminare tutte le mattine? Anche io, sempre. Ma non te vedo? Annotte, quando tu dormi. Non ti incontro. Avevi cominciato tanto bene, te sei in bigrida. Io cammino diverso. Eh, però il cardiologo ti ha detto che non conta quello. Eh beh, non fa niente. L'importante è che non stai a sedere. Aspetta eh. Aspetta, rendiamo eh. Che devo collegare qui. Hai levato i piatti? No eh. No? Certo che no. Beh, la vi domani. Ma come no? Via, andiamo. Prova! Ciao a tutti! Oh, ho cambiato cellulare no? Ultimamente ci stava qualche cosa che non funziona. non c'è niente da fare. Sto diventando matto con questi cellulari. Meglio una volta che non c'è io no. E' vero eh? Certo. E' tutta questa noia. Mi fa ringojonire sto sistema. Non scorrono più i commenti. Non capisco perché. Secondo te perché? Di mano no. Allora io sai che faccio? Brigamice, fa un piacere che lavorano. Su. Aspetta che devo girare qua il cellulare e ce ne fammelo un altro sistema. Aspetta. Eh. Tocca fa così per forza. Uh. E' tocca fa così. Fammelo mettere bene. E così mi vedono all'incontrario ma non so che fai io. Mo' mi vedono all'incontrario. La destra sta a sinistra. I commenti forse forse che li vedo lì. Però siccome ho messo orizzontale ne vedo uno per volta. E' certo che... E' dura la destra. Non so perché Facebook mi fa sti scherzi. Non te lo so dire. Non va bene comunque. Non vedo chi mi scrive lì. Lo devo guardare qui. Andiamo adesso andiamo che ci frega. Che ci frega. Oh. Anche perché se ci incazziamo per quello che non dipende da noi. Cioè non ci passa più un'cazzatura no? Cioè se una cosa non dipende da te. La voglia di incazzarti perché piove per esempio no? No? Io non mi incazzo. Però ci stanno tante persone che si incazzano per quello che non dipende da loro. Si inquietano si dice. Si inquietano. Si arrabbiano. Si agitano. Si agitano. Però se incazzano ti do uno schiaffone. E' come... Suoniamogli una canzoncina di quelli allegri. Va un po' più indietro. Quando mi dai. Ma no. Lì non ti vedono dopo. No qua. Questa sedia ti fa proprio come tu? E' leggermente più indietro. Eh? Brava. Questa sedia si perché mi molleggia. Eh. E' più alto di quell'altro. E' un cucino che ci metti a fare. L'ambo che mi fa girare la capoccia. Sta fermo. Vado via eh. Aspetta. Come vai via? Salutiamo. Non vedo un commento per volta qui. Laura. Anna Denisi. Dai fammi suonare. Non riesco a capacitarmi perché non vedono i commenti. Ma è una cosa curiosa. Forte. Dice che gli hai fatto giustare. Vedete questo? Ma non c'è. Non mi scorro nei commenti. Niente. Nascondi. Siete che ha premuto un tasto. Eh che ho premuto. Chissà niente ho premuto. E' che Facebook ultimamente gli puzza l'alito. Gli puzzambo l'alito. Capito? Come i cristiani. Come le persone. Gli puzza l'alito a Facebook. Certe puzze che non si rispira. Oh certi gli puzza l'alito. Sul serio eh. Appena gli passi vicino. Ma che dici che ha mangiato? Un gatto morto? Una vecora morta diciamo. Una vecora morta. No. Alla vecora morta. Spena con la mia. No. Non mi ricardo. Alla cosa incondita? Up. Un video. Un video. Grazie a tutti. 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 Perché non lo dicono, è pieno il mondo, figlia mia. Allora, io intanto suono qualche canzoncina di quelle che ti piacciono a te. Che è contenta, che è contenta, dai. Daria, non te la sono. Dai, è tanto contenta, ti vedete, anche se io ti dico ciao, è contenta. Ciao, ciao, daria, però la canzone non te la so. Ecco. Perché mi basta i versaggi che mi fa bene, che significa? Mi faccio da 100 euro, scusa. Ma sì. Daria, un centino, dai. Cacciati i soldi, che ci fai? Tanto mu eliminano i contanti. No, vogliamo, vogliamoci tanto bene. Cacciati i soldi, che ci fai 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 bene. Questa era Vogliamoci tanto bene. Bella? Bella, sì. Poi andiamo indietro, eh. Stiamo alla V. Questa non so se la conosci. Questa ha suonato, o sai chi ha suonato la batteria? Lello. Con Claudio Villa. Ebbè, sono andato tante volte, po' che si amano. Vivere? Eh, sì. La voglio dedicare a tutti quanti, a tutti. Anche i mille che ci sto. A tutti, a tutti quelli che ci stanno. È un augurio, no? Mmh. Eh. Ti ricordi di vivere? Non so se io andavo a dover stare. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata. Troppo accendosa dice la parola, troppo cargata. Più semplice. Ti voglio far sentire parole. Ma sento uguale io. Non mi hai sentito niente. Ricomincio da capo. Ah, certo. Oggi che magnifica giornata. La sbrigate. Che giornata di felicità. Ecco, dipende. La mia bella donna se n'è andata. Ah, ci vediamo. Ma ha lasciato al fine in libertà. Sono padrone ancora della mia vita. e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Eh, io. Vivere senza malinconia. Vivere. Qualche porta si stagia. Senza più gelosia. Hai capito? Eh? Tu non ce l'hai qualche porta. Ma io so sempre allegro. Ah, certo. Senza rimpianti. Senza mai più conoscere cos'è l'amore. L'amore è bello. Se ti incontri con una persona brava. Che vuol dire essere bravi? Oh no, fa lunga, genico. Spiegati se ti sei suonato. Non ho capito che vuol dire essere bravi. Ecco, io so. Tutto vuol dire. Da cima e fondo. Tutte le cose brave. Bravo? Cioè, che deve fare uno che è bravo? Bello. Suona un po'. Sono. Aspetta, che non già è chiaro. Buongiorno a tutti. 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 giusta è quella di mamma Antonietta, aspetta, risposta pronta e giusta a quella di mamma Antonietta Gianni che immenso bene hai per te. Come? Non ho capito bene, risposta pronta e giusta a quella di mamma Antonietta che immenso bene ha per te, forse volevo dire. Qual è la risposta che mi hai dato? Eh ma non mi ricordo. E non ci ricordiamo più la risposta, ci siamo rincoglioriti qui a Spoleto. Vuoi due mollette anche tu? Non penso, io non sei rincoglionita ancora no. Ah tu non sei rincoglionita? Non penso. Allora solo io? Oh non lo so, lo sai tu? Solo io. Violino t t Zigano. Zigano. No. Volemo fare una canzone per Daria? Eh dedichiamo una canzone a Daria de Como e la famo contenta. Un'allegra eh? Bene? Quella ti dico io non mi scordi ma faccio la tevara. Ma quale vuoi tu? Dai Gesù cosa. Come hai sentito là? E non me lo ricordo. E non me lo ricordo? Eh certo. Suonamogli questa dai. Daria, stai imparata si. Daria senti che bella canzone che ti suonamo da Spoleto. O накONE. E non me lo ricordo. E non me lo ricordo. E non.. Ma come là. De celebre. Didi è un buono. Di me ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, quando veniva a mettere il grano, oggi l'era? No, no, allora era a Bardasso, dopo c'era venuto. Però ti piacque subito questo moro scuro? Tu morito nero, nero. Era nero, fuori in marocchino. Vabbè. Eh? Per me era bello. Era bello? Certo. Perché voi come siete venuti? Uguale, uguale. Allora, ecco. Violino... Oltre che bello, bravo, più che andro. Però non ho capito che vuol dire essere bravo. Oh, che lappa. Su, la, sei peggio dalla lappa. Giolino Zigara, la conosci? No. Come no? Oh, come no? Oh, come no? Oh, come no? Che è tutto questo movimento. Per digerire? Ma sì. Questa te la ricordi? Secondo me, questa te la ricordi pure le parole per cantarla. Tanto non canto, non chissà. Ti dico le parole, oh. No, no, non ti preoccuparti. Ti suggerisci le parole? Non ti preoccuparti troppo, sul sonno e basta. Vecchio Scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non scordo più, sopra le dune nel deserto infinito. Suonato, perché è più bello invece che parlato, so. Lungo le sfonde, accarecciate dal mar. Grazie. Grazie a tutti. 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 vi saluto. Vi saluto. a tutti. A tutti. A tutti.